Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Ricordo che se volete trovate nell'info box tutti i riferimenti ai miei social. Musso è il nuovo portiere dell'Atalanta, un investimento importante, 20 milioni di euro per avere il giocatore, mentre come stipendio un milione e tre per quattro anni. Insomma l'Atalanta si fa forte, l'Atalanta dimostra di avere capacità di portafoglio, dimostra di avere ambizioni, si va a prendere quello che probabilmente è uno dei migliori portieri della Serie A, se non il migliore quantomeno oggi, tenendo conto appunto anche dell'uscita di Donnarumma, io non ho grandi problemi a dire che secondo me è il migliore sulla piazza. Un'operazione che è tutt'altro che scontata, ne avevamo parlato perché la notizia girava da diverse settimane, qualcuno storceva il naso perché il calciomercato è un po' allergico, però ve l'ho detto, ci vuole un po' di pazienza, le trattative non si chiudono in due giorni ma generalmente quando si va si cerca di chiudere. E vi dico anche, sapemelo dire, che aspettatevi altri colpi perché man mano che le squadre escono dall'europeo, i giocatori si liberano, possono fare le visite mediche, possono parlare con le mogli, con i figli, con le suocere, con le nuore, vedere se la temperatura del posto è adatta al cane, al gatto e quant'altro, a quel punto anche gli altri interessamenti si possono andare a concretizzare, quindi restiamo vigili perché ne vedremo delle belle. Ovviamente l'acquisto non può essere ufficializzato, rispondo già alla domanda che tanti hanno fatto, perché il calciomercato apre il 2 luglio, quindi il 2 luglio verranno depositati eventualmente i contratti e a quel punto ci sarà il classico comunicato sul sito e quant'altro, ma fino a quando non è depositato il contratto non si può, aspettiamo qualche giorno e vedrete che ci sarà l'ufficialità, ma quando le notizie escono così insomma vuol dire che il contratto è solo da depositare. Facciamo un ragionamento in termini tecnici, perché tanti hanno avuto dei dubbi, tanti hanno chiesto se effettivamente serviva cambiare il portiere e se Musso è meglio di Gollini. Quindi cerchiamo di dare una risposta. Era necessario cambiare il portiere? È una domanda a cui noi non possiamo rispondere. Ve lo dico con tutto onesta, sono valutazioni che sono state fatte in rispogliatoio dal mister, che anche comunque in conferenza stampa più volte nel corso dell'anno ha fatto capire di non essere soddisfatto e a quel punto, secondo me, già da quei comunicati era facile pensare a un'uscita di Gollini. Portiere che ha comunque mercato e quindi era un po' inevitabile la cosa. Per quanto riguarda invece il confronto, onestamente per me è Musso superiore a Gollini, ma non è la domanda giusta. La domanda è se in questo momento è più adatto un portiere come Musso o un portiere come Gollini. Io credo che per la trasformazione che sta avendo l'Atalanta, e vi ricordo che l'Atalanta ogni anno cambia qualcosa nel suo gioco, adesso serve un portiere che sta fra i pali e che faccia parate complicate. Magari un portiere che collabora meno sul gioco a terra, magari un portiere meno abile nell'uscita, ma un portiere che offre grandi garanzie fra i pali. Perché l'abbiamo visto, soprattutto nelle coppe europee, è lì che fai la differenza. Ti serve il portiere che ha una buona percentuale di parate e delle parate impossibili, dei tiri impossibili. So che messa così sembra una roba tipo i coefficienti delle carte Pokémon, ma quello è. Se tu vuoi fare l'ulteriore passo in avanti verso diventare una squadra realmente big, ti serve un portiere in grado di prendere tiri impossibili, o quantomeno una percentuale. E quindi per me l'acquisto di Musso è assolutamente logico, motivato ed esatto. Fra l'altro portiere voluto fortemente da Gasperini, che l'aveva indicato. Quindi direi che da quel punto di vista possiamo anche non avere dubbi. A Gollini va un grandissimo ringraziamento per tutto quello che ha fatto, perché gran parte di quello che abbiamo raccolto è anche merito suo. È stato un portiere perfetto, che si è impegnato, che è stato anche molto simpatico, che ci ha voluto bene. Io non sono uno di quelli che rimane attaccato ai giocatori, perché quello che conta è la maglia. E quindi gli auguro ogni bene, gli auguro sicuramente tanti altri successi. Però bisogna guardare avanti. Quando tornerà Bergamo, se tornerà Bergamo sarà sempre ricordato con affetto per quello che ha fatto. Però obiettivamente ora dobbiamo buttare un occhio in avanti e io con Musso fra i pali vedo un futuro assolutamente positivo e sereno. La cosa mi conforta. Bisognerà lavorare all'uscita di Gollini, ma se si è finalizzata la trattativa di Musso, vuol dire che bene o male anche Gollini ha già trovato una sistemazione, si parla di Roma o di Lazio. E chiudo questo breve video in cui voglio fare una riflessione. L'Atalanta in questo momento sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per stare al tavolo delle grandi. Perché ha i soldi e gli altri non ne hanno. Non tutti, però insomma. Ha capacità di trattare. Perché Musso che viene un milione e tre, rifiuta magari piazze dove prendeva molto di più, vuol dire che c'è anche una capacità. Non c'è solo un appeal nel fatto che fai la Champions, perché la Champions con tutto rispetto non vale un milione o un milione e mezzo in più di ingaggio. C'è anche una capacità di convincere, c'è un progetto che attrae i giocatori. Lo stesso Goses che non vuole partire, Romero che vuole stare qua. L'Atalanta è un progetto in cui la gente sta bene, che vuole restare, che vuole sentirse ne parte. Ed è il primo passaggio per consolidarsi e riuscire a tenere i giocatori. Non siamo più l'Atalanta costretta a cedere, non siamo più l'Atalanta costretta a vendere un pezzo all'altro, siamo una squadra forte che si sta costruendo e che sta dimostrando con queste operazioni di avere ambizione di volerci provare. Ripeto, non sto dicendo cose troppo forti, sto dicendo che l'Atalanta in questo momento ha dato un'ulteriore prova di non essere una cenerentola e di voler definitivamente prendere un posto al tavolo delle grandi d'Europa e far capire a tutti che abbiamo delle carte importanti da giocare. Io come al solito vi ringrazio tantissimo, vi lascio tutti i miei riferimenti ovviamente in descrizione e per restare aggiornati su tutto quello che succede nel calcio mercato e nelle notizie dell'Atalanta, il mio invito, come sempre, è consultare atalantini.com. Ciao! Ciao!